Amici sportivi, ciao qui da Salvatore dell'Ortica Team di Milano. Siamo in questo momento a Roncaro, in provincia di Pavia, dove tra pochi istanti partirà una corsa di 6 km. Ci sono i nostri amici dell'Ortica, saremo lì in 5 o 6 o 7, insomma fate un po' voi. E niente, aspettiamo la partenza, comunque Roncaro è una cittadina, circa 400 abitanti che si trova in provincia di Pavia, nella zona del Ticino per così dire. Niente dai, aspettiamo fra pochi istanti la partenza, ok, a dopo. Ecco, attendiamo gli atleti, sono la partenza, attendiamo la partenza appunto, vediamo un attimino. Quando si muoverà la staffetta, gli atleti saranno partiti, ancora pochi istanti, vediamo un attimino che si mettono in posizione. Aspettiamo sempre i nostri amici dell'Ortica, sempre grandi, veramente eccezionali. Ricordiamo che alcuni nostri amici sono andati a fare la 10 km non competitiva, mentre questa è competitiva, quindi verrà compilata una classifica. Ok, aspettiamo, attenzione che stanno partendo, attenzione, partiti in questo momento, dai, partiti, è bella lì, bella lì, ecco, ecco, vedi, è travolto anche il fotografo. Eh, bisogna stare attenti, eh, eh sì, bisogna stare attenti, ecco lì, qui che arrivano, ecco chi arriva. E lui, è sempre lui Gianfranco, è sempre Gianfranco, eh, orticca, 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 eh. Ehi, bellissima questa partenza, veramente, bellissima, bellissima, anche se, ahimè, è stato travolto il fotografo, dai, comunque niente di grave, via, si è rialzato, bene, bene, dai. Va bene, ci risentiamo più tardi, eh, comunque, bellissima partenza, dai, senza ombra di dubbio. A dopo. Comunque, nel frattempo che aspettiamo l'arrivo dei nostri orticchini, vi faccio vedere un po' la zona partenza, eh, che è questa qui, eh. Questa qui, che è nel piazzale del comune, eh, molto bella, carina, ci sono tanti alimenti per questi atleti, tanto cioccolato, che mi piace molto. Vabbè, comunque non so perché ve lo sto dicendo, perché tanto penso che non gli frega niente a nessuno se mi piace il cioccolato a me, punto. Vabbè, dai, comunque, comunque non gli caso, questa corsa oggi è piena di persone, eh. C'è tanta, tanta gente, veramente, quindi complimenti anche all'organizzazione, eh, perché veramente fa trovare tantissimo calore. Va bene, noi aspettiamo sempre l'arrivo dei nostri atleti, eh. Comunque, vedete, è una bellissima fontana, eh, questa c'è, questa piazzetta qua che ha ospitato questa, questa corsa, eh. Comunque, noi siamo sempre qui che aspettiamo gli orticchini e tutti belli, sorridenti, pimpanti, eh, che è la caratteristica che li distingue. Va bene, poi, insomma, si vengono a fare anche queste serali, ci si diverte, ci si mette la tuta, un paio di scarpe e via. Ok, noi siamo sempre qui che li aspettiamo, eh, speriamo che arrivino presto, eh. Io penso di sì, poi, insomma, ognuno segue il passo che vuole, eh. Quindi aspettiamo i competitivi che fanno 6 km, quindi con classifica, e i non competitivi, quindi partenza libera, a cui è seguito, a cui, anzi, non è tanto seguito, ma hanno cominciato, prima di questa partenza di 6 km, la 10 km, aspettiamoli, eh, noi siamo sempre qui. Comunque ricordiamo che l'arrivo, praticamente si trova qui, eh, l'arrivo si trova nella piazza del comune, da là in fondo, alla zona, al rivo, ci sono circa un 150 metri. Pensiamo che i primi dovrebbero arrivare intorno ai 18-19 minuti, eh, quindi noi siamo sempre qui, eh, che li aspettiamo. Comunque ricordiamo che il premio, oltre i primi tre classificati, spetta a tutti, eh, spetta esattamente una bottiglia di vino, eh, qui del pavese, eh, senza altro sarà buona, eh, l'importante è non berla qui, ma berla a casa, eh, perché ubriacarsi è un attimo, eh, poi c'è chi deve guidare, bisogna veramente guidare, diciamo, senza alcol, eh, senza alcol, ma sicuramente è meglio bere acqua. Ecco il primo, ecco il primo che sta arrivando, bravissimo, bravo, ole, bravissimo il primo, ma bravissimo anche il secondo o terzo, eh, e via tutti gli altri. Ed ecco dovrebbe essere la prima donna che arriva, bravissima. Ed ecco Fabio, eh, ed ecco Fabio, Fabio, ale, ale, vai Fabio, ale, ale. Ecco Riccardo, ecco Riccardo l'ortichino che purtroppo mi l'aveva coperto il trattore, vabbè. Ale, riccardo, ale, riccardo, ecco Gianfranco, Gianfranco, ale, gianfranco, ale, grande ortichino, ale, 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 forza, ale, ale, vai col trattore, ale, 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 ecco, ecco, dovrebbe essere Paolo, ecco, dovrebbe essere Paolo, eccolo lì Paolo, ale, 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 forza, forza, ale, ale, forza, ale, ale. Ok ragazzi, allora vi saluto, amici atleti, sportivi, passate buone ferie, buone vacanze soprattutto, qui da Roncaro, provincia di Pavia, bravissimi ortichini, ortica team Milano, mi raccomando sempre ortica, sempre ti fare ortica, 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 ortica. Ciao e buone vacanze.